E' stata inaugurata sabato sera la ventesima edizione della Fiera della Contea di Modica, in programma fino al prossimo 19 giugno. Per la prima volta gli stand sono ospitati all'interno del campo sportivo di Contrada Caitina, intitolato Pietro Scollo. Ed è proprio lo sport uno dei protagonisti di questa edizione. La danza sportiva ha infatti dato il vio ufficiale alla manifestazione, con una suggestiva parata delle scuole di danza che parteciperanno alla prima edizione del concorso di danza Fiera della Contea. La rassegna fieristica prevede molte variegate proposte presenti nei vari stand delle aziende del territorio, che hanno scelto la Fiera della Contea come vetrina d'eccellenza per i loro prodotti. Prodotti locali, ma anche artigianato tipico del Maghreb, per uno scambio culturale ad ampio raggio. Tanti anche i visitatori che hanno scelto di trascorrere la prima serata passeggiando tra gli stand con la possibilità di gustare anche una buona pizza o un appetitoso panino accompagnato da una birra fresca. Sabato, dopo la parata, la presentazione ufficiale delle sette scuole di danza, Tersicore, Arete, Metamorphosis, La Piramide, Team Melody, Move Dance, Most of King Dance Studio, che si esibiranno da oggi fino a sabato, quando ci sarà lo spettacolo finale con la premiazione. Appuntamento per questa sera con il concorso gastronomico Mister Chef. La gara di cucina vedrà sfidarsi ai fornelli i cuochi amatoriali, che avranno però come coach dei veri e propri chef, che hanno deciso di aderire al progetto. La giuria sarà presieduta dallo chef Peppe Barone e decreterà ogni sera il vincitore, che passa poi alla finale di sabato prossimo. Il primo premio è una cucina completa di accessori. Non sono invece ancora presenti gli ospiti degli stand di cucina internazionale, che sono stati coinvolti in un incidente non hanno ancora potuto raggiungere Modica.